Ho provato a chiedere di quali sono le possibili prospettive di azione sulla montagna. All'inizio Giorgio Pizzaro diceva ma non è che si può risolvere tutto della montagna entro la montagna. Ma io su questo sono molto convinto e vado a dirvi perché. Per tracciare questo possibile percorso secondo me bisogna ricordarci la distinzione di fondo. La montagna, è stato citato, non è ovunque nello stesso mondo. Abbiamo quantomeno due estremità, quelle delle zone con bacini turistici anche portanti dove il problema del paesaggio di montagna è di importazione. E abbiamo le zone con marginalità del senso pastorale dove il paesaggio è in ipotensione. Queste due cose hanno nel mezzo però degli stati intermedi. E non è che sempre in un territorio abbiamo solo Madonna di Campiglio o solo la zona dove i boschi chiudono i pascoli. Alle volte ci sono fenomeni intermedi. Queste cose le dobbiamo tenere in considerazione affinché non facciamo delle politiche pregiudiziali a confronto della montagna. Io credo che ci siano tre assi su cui possiamo ragionare, in termini progettuali, di funzioni che indubbiamente la montagna svolge. E per semplicità l'ho chiamato l'asso delle funzioni ambientali, delle funzioni sociali e delle funzioni produttive. Cosa voglio dire? Non c'è dubbio che la montagna svolge delle importanti funzioni ambientali. Il problema è vedere e riconoscere nei confronti di chi e di che cosa. Noi sappiamo bene a che livello di alterazione ecosistemica, in generale paesergistica, sono arrivati certi nostri territori. E la montagna, non c'è dubbio che ovunque, salvo eccezioni di pressione turistica, è un bacino di naturale trattinfusa potente. Ma, dicevamo prima, la montagna della Buona e della Pellini non ha senso senza Lucca e Lucca viceversa. Senza la Versilia, la Versilia viceversa. E Lucca, la piana di Lucca e la Versilia sono in Italia nell'insieme delle aree a forte pressione insediativa e infrastrutturale con urbanizzazione diffusa. Quindi non hanno questa naturalità che ha la montagna immediatamente vicina. Quindi, da un lato, dobbiamo stare attenti a fare politiche demagogiche in cui, diciamo, beh, il nostro territorio c'è real propone agli appellini tutto sommato compensano i malestri fatti in pianura. Dall'altro, però, forse c'è da riconoscere che Alpiapuani e Appennini stanno prestando, senza che siano forse troppo ben riconosciuti, dei servizi ambientali che non le prestano solo a se stessi. Le stanno prestando soprattutto ai beneficiari che ne hanno più bisogno, che sono le aree di pianura fortemente messe in crisi dalla diffusione insediativa, dalla diffusione infrastrutturale e dalle pressioni ambientali che hanno. L'assa delle funzioni sociali. Ma noi siamo davanti a una società che ha sempre una maggiore domanda di qualità della vita espressa da una società che è sempre più urbana. Anche chi non vive in città, di fatto, è sempre più cittadino nella sua cultura, nelle sue relazioni, perché magari vive in montagna ma lavora in provincia a Lucca, quanto per denna una, è anche pendolare magari. Non c'è dubbio che un paesaggio di qualità come la montagna può esprimere e svolge delle frizioni sociali che non possono essere esaurite dagli spazi verdi della città. Quindi abbiamo anche da questo punto di vista qualcosa che la montagna sta facendo in confronti delle società dei territori limitrifi ai territori montagni e che forse non è fin troppo in modo sufficiente riconosciuto. Infine c'è la cosa più scontata, la sovrazione produttiva. Noi sappiamo che l'agricoltura di montagna è indegresso ma forse anche qui una nuova progettualità che va a legare la maggiore domanda di qualità ad esempio degli alimenti con il fatto che per qualità degli elementi bisogna avere qualità dell'ambiente in cui lo si produce la montagna è un aree elettivo per lo sviluppo di alimenti di qualità. Quindi anche qui c'è da fare un ragionamento sulla produttività possibile delle aree montagne. La cosa che però a me preme che comincia a passare è che le aree montagne, e qui i trassi con te, hanno questa produttività che non possiamo dire immateriale di servizi ambientali e sociali verso altri beneficiari. Allora il problema è arrivare a decidere se questi servizi vengono riconosciuti o meno e quindi ad apprezzare il peso che in realtà che giudichiamo marginali hanno nell'ambito della qualità della vita dei bacini più ampi. Noi non possiamo pianificare delle politiche di salvaguardia, sviluppo, sviluppo in termini qualitativi delle aree montagne lavorando sulle aree montagne e basta. Vi faccio una domanda provocatoria e chiedo, sono disposti oggi i territori della Piana di Lucca e della Versilia lo metto fra virgolette ma non tanto a pagare gli essenziali servizi ecosistemici svolti dai bacini apuani e appennini? Li riconoscono? Il PTC di Rimini ha cominciato a ragionare tra la costa massacrata e le colline in termini di perequazione territoriale dei servizi ecosistemici ma semplicemente perché se no i sindaci della collina si trovano come dire, se devono ragionare sui termini di ICI a non poter far nulla quando i sindaci della costa sono ricchi a formazione di ICI allora ci dovranno essere altri termini ma la domanda non va apposta solo ai beneficiari va apposta anche a chi il beneficio lo presta e forse non è troppo consapevole quindi in qualche modo sono consapevoli oggi i territori aponi e appenninici degli insostituibili valori e pertanto della necessità di riconoscimento dei servizi ecosistemici e più in generale paesaggistiche che elargiscono ai territori limitrofi a forte persone antropiche anche questo è il processione sociale perché se una realtà montana non è consapevole socialmente del fatto che sta elargendo dei servizi essenziali per una realtà che è a 30 km di distanza non se li fa pagare e quindi non fa politica territoriale sovravocale di pressione giusta democratica per farsi riconoscere queste cose mi sembra inevitabile che la planificazione territoriale per le aree montane siano esse a forte pressione come i problemi di marginalità debba riguardare la ricerca di scenari calibrati da più comunità non solo da quelle montane su bacini territoriali che abbiano un senso ambientale un senso sociale un senso economico e per senso ambientale come sociale e economico intendo a livello di relazioni la montagna non vive da sola la pianura non vive da sola tanto più adesso dove le pressioni si sono concentrate pesantemente da una parte e abbiamo forme di crisi anche per abbandono dall'altra ma allo stesso tempo utilizziamo i benefici che ne vengono e quindi veniamo anche al discorso del turismo questi scenari devono portarci a una scala sovralocale per cercare le politiche territoriali legate alle aree di diretta interazione ma il turismo in quanto tale lo si va a intercettare su bacini di scala molto più ampia il turista e il turismo deve essere ospitato non subito il turista deve trovare un'identità ma non intesa come museificazione della storia del luogo ma come progetto di un luogo deve trovare una peculiarità quindi questa è una responsabilità delle comunità locali che permette però di arrivare a dei paesaggi non subiti non di risulta dei paesaggi venuti che sostanzialmente è quello che ci chiede la Convenzione Europea che ci dice sempre salvaguardare ma anche recuperare e non dimentichiamocelo perché è quello che in Italia sappiamo fare meno produrre a me piace poco la parola creare ma in termini di creatività va anche bene creare nuovi paesaggi molto interessante e profonda credo e propositiva su queste convenzioni che è già un buon elemento di riflessione e di applicazione ma quanto si tratta di tanti paesi con una velocità di croce tanto diversa di una delle altre è ben evidente che le convenzioni finiscano nel cassetto spesso grazie a tutti